E' pericoloso e resta in carcere lo stalker arrestato a Marotta. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro che ha convalidato l'arresto del 46enne autotrasportatore originario di Sassoferrato ma residente a Lussemburgo. L'uomo era stato fermato dai carabinieri di Fano qualche giorno fa per atti persecutori e danneggiamento aggravati. Il tutto era scaturito dalle segnalazioni fatte alle forze dell'ordine da parte dei familiari intimoriti dalle minacce del loro congiunto di intraprendere il viaggio da Lussemburgo all'Italia per punire l'ex moglie colpevole secondo lui di aver rovinato i rapporti con la figlia. I carabinieri avevano da subito posto la massima attenzione sull'uomo perché le ultime notizie dei parenti lo davano in avvicinamento alla città della fortuna ed infatti venerdì scorso il 46enne ha fatto irruzione nel negozio di abbigliamento di Marotta dove lavora la figlia. Armato di mazza aveva urlato e poi danneggiato un manichino prima di darsi alla fuga ma grazie ai sistemi di videosorveglianza installati tra Marotta e Pergola i militari lo hanno rintracciato e raggiunto in un hotel del lungomare. Dopo aver fatto irruzione nella camera d'albergo hanno proceduto al suo arresto con non poca fatica visto che l'uomo ha opposto resistenza. Il 46enne è stato trovato anche in possesso di alcuni grammi di marijuana ma a cose inquietante dalla perquisizione del bagagliaio della sua lancia Y sono state scoperte due taniche di benzina e gasolio. Lo stalker in un momento di lucidità ha ammesso chiaramente ai carabinieri che gli sarebbero servite per mettere in atto la sua vendetta.